Su quante risorse può contare il comune di Parma per far funzionare la città e derogare i servizi? Da dove vengono i soldi? Come vengono spesi? A che punto siamo con la situazione finanziaria del gruppo Parma, cioè del comune e delle società partecipate? E ancora, quali investimenti si faranno in opere pubbliche? A tutte queste domande risponderanno questa sera alle 21 al Cinemastra il sindaco Federico Pizzarotti e gli assessori della sua giunta in una operazione trasparenza rivolta a tutta la città. Toccherà invece all'assessore Alinovi presentare il piano degli investimenti sul patrimonio pubblico programmati e finanziati con il bilancio 2014, previsti per un totale di 31 milioni di euro. Rispetto al 2012, e lo ricordo sempre, dove abbiamo pagato un decreto ingiuntivo da 5 milioni di euro e fatto manutenzione sulle strade pari quasi a zero, patendo un inverno veramente di situazioni stradali anche pericolose, anche di segnaletica, le famosi cartelli abbattuti tutti i giorni, luogo di interrogazioni in Consiglio Comunale innumerevoli. Direi che grazie alle politiche di bilancio, come dire, che l'amministrazione ha messo in campo, quindi pagando i fornitori, insomma abbiamo dato una continuità a questi investimenti. Soprattutto quest'estate io penso di essere soddisfatto delle manutenzioni per circa 2 milioni di euro complessivi che sono state realizzate 1 milione e 9, se non sbaglio, ad esempio sull'Apidio in centro storico che, come dire, anche il sindaco Pizzarotti è sempre molto attento, una volta abbiamo fatto anche un sopraluogo insieme per verificare anche di persona, e anche le sfaltature sulle grandi viabilità. Abbiamo collaudato un nuovo mezzo, una nuova spazzatrice per i marciapiedi, perché a Parma non esisteva, è sempre carino dirlo, non esisteva un sistema che non fosse manuale per spazzare i marciapiedi, salvo sotto i portici del grano, sotto via Mazzini, insomma nei grandi spazi. Invece è molto importante la spazzatura delle strade e dei marciapiedi. Stiamo rivedendo completamente quello che è lo spazzamento dei cordoli delle strade a Parma e nella periferia, nelle strade che connettono alle varie frazioni, proprio perché quelle erbette che tutti avremmo notato nascono anche e soprattutto perché in passato questa azione non è stata fatta, cioè venivano tagliate, ma l'erba cresce, ci insegna, e in quest'anno anche piovoso è cresciuta anche molto. Ma invece la pulizia migliore e puntuale in tanti punti della città migliorerà gradualmente il sistema, e questo è stato fatto senza spendere di più.